E rieccoci qui ragazzi con l'atto 2 con le avventure del nostro Resident Evil 4 tra misteri e occulto e dovremmo fuggire da una parte, nei matti. Molto bene ragazzi, prima di iniziare vi ricordo a tutti che non sono il solo abbiamo la nostra Yucari che ha iniziato la live due ore fa, Detro, Roger Steel, Nedcom, Tifetta, Norisawa, Andrea Pippo, Killer Joy, Grey, Deuxpanse, Yeye e Axel Allora Aero di carta, forse avrà già intuito ma puoi uscire da qui attraverso il condotto di smaltimento dei rifiuti. Una lettera di Aida Allora 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 Grazie a tutti. Mi chiedi pure la porta in faccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' stato proprio un bel salto. Non c'è che dire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Allora ragazzi devo fare un attimo una coseccia. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Leon! Help! Help! Leon! Help! Help me Leon! Leon! Help! Wrap! What he is doing? Let me take a nap of the one! I don't know. He's waiting for me. I want to go. Let me know. I know. I can't be that man. I can't have a man. I can't be that man! Look around! bene, sempre dritto ora ragazzi, vedi che c'è un po' di troppo di giunghi, che ne c'è cadere il l'estero non c'è un po' di troppo di giunghi non c'è un po' di troppo di giunghi ehi Fabio, benvenuto c'ho qui un sapataggio per ogni sicurezza mamma mia eh sì, sono ancora agli inizi poi dopo che avrò concluso la campagna di Leon farò quella di Ida guarda qua, ho ottenuto tutte le statuine non c'è guarda qua 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 Ah, troppo sì. Sì, è già cominciata. Sappiamo bene. Ah, ma qui verrà un bello scontro. Sì, è già cominciata. Sì, è già cominciata. Sì, è già cominciata. Farò anche la versione originale su PlayStation 2. Ecco il nostro biondino. Quindi porterai re 4 hdpce. Sì, è già cominciata. Sì, è già cominciata. Sì, è già cominciata. ok colosso man vieni ok 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 Ehi, è elettrificato! Accucia! Muori! Qua i soldati a differenza, se degli abitanti sono i più pericolosi. Chissà come saranno le armi della versione Remastered. Ehi, Fabio! Mamma mia! Chissà se faranno delle modifiche o allungheranno parecchio la trama. Sarà una bella attesa, eh? E' incredibile che hanno deciso di fare anche un Remastered 4. L'ultimo capitolo, l'ultimo titolo fatto da Mikami. Eh sì! Chissà se poi si concluderà il ciclo, il titolo incompleto diventerà completo con la Remastered. Poi vedremo anche Code Veronica. Mamma mia, pure Code Veronica è rimasterizzato. Guarda, si può dire che la Capco sta rimasterizzando tutta la saga. Manca solo la diretta o calda, addirittura. Eh, in fondo, da quando è uscito il robot del film di Resident Evil sono risaliti gli ascolti. Persino l'attore che ha fatto Chris. Chris World World ha rigiocato sia la versione originale che la Remastered. Ha pubblicato il tuo persino sul suo canale e Instagram addirittura mentre rigiocava. Godiamoci lo scontro, va, qui non devo sbagliare. Conna una volta, comrade. I died in the crash two years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Saddler developed, that's all. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Saddler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Mannaggia. Ci sbagliato proprio all'ultimo momento. Che short. You got her involved just for that? All for Umbrella's sake. Umbrella. Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Ada! You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Ecco qua, abbiamo fatto un bello scontro con Krause. Allora, raga, molti di voi che sicuramente forse avranno anche giocato la versione Resident Evil Darksiders che è stato l'ultimo degli spin-off che collegava tutti gli Resident Evil, partendo dal 4 al Code Veronica successivo. Krause sarà uno dei bersagli molto più difficili in questa parte e per chi non l'ha giocato non voglio spoilerare tutti i particolari. Comunque, Krause, come Leon, faceva parte della stessa unità special per i servizi segreti, entrambi ex-marine nell'unità SOCOM specialmente. Dopo Ievè, di Provii Darksiders, che spero anche io di riuscirlo a portare, comunque vi farò solo questa citazione. Leon e Krause furono inviati in Sud America per scoprire il suo misterio, un suo evento che stava avvenendo in uno dei piccoli villaggi locali, scoprendo che, a quanto pare, il Code Veronica era stato riutilizzato come virus insieme al virus T. Dopo quegli eventi, beh, Krause è scomparso dalla circolazione inscenando proprio la sua morte. Oh, mamma mia! Ragazzi, prepariamoci qua, ora ci divertiamo. Ragazzi, guardiamoci qua. Contento? Contento? Contenta? Contento? Sì, 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 sì. Come nel film. Un attimo solo. Ecco fatto. Ho fatto una fotografia. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 io lo sappiamo, o che le munizioni sono sempre l'ultimo dei problemi. Ecco qua, un altro potenziamento e mi manca poco per potenziare tutta la vite. Eh, qua possiamo fare solo una cosa, purtroppo. Questo è uno dei percorsi più grazie che conosciamo molto bene. Ashley? Cosa è quello? Cosa è quello? Cosa è quello? Cosa? 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 Qua tutto quello che puoi fare è solo schivare, non puoi fare niente contro lui ma è ordinato la pianina è stasera adesso a due Sì. Ah, io to' levi. Ah, io to' levi. Ah, io to' levi. Ah, io to'. Vieni vicino, vieni vicino. Piaciuto lo scherzetto? Farci! Vieni. Ah, io to' levi. Ah, io to' levi. Non ricordo se posso chiudere. Sto qua dentro. Qua ce l'ho chiuso. Oh, cacchio. E' morta la testa, ma non quello. Oh, cacchio. 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 Grazie a tutti. 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 La macchina da scrivere. Grazie a tutti. 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 , 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 ,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, 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 ,,,,, ,,,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, 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 ,,,,,,,,,,, Grazie a tutti. 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 It's soft, aren't we? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, we're stuck. We're getting a bit soft, aren't we? I can see in every move. I can see in every move. I can see in every move. Oh, we're talking. 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 Oh, come on. Oh, we're talking. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.